ragazzi built radio di pokémon fire red rock edition oggi siamo oggi devo iniziare parlando con bill ma non scorsi episodi sono stati promossi si è stato promossi e si possa anche rubare delle ragazze e dei adulti che non sono cosa bella iniziò quando parla con bill che c'è chiesto di entrare ha detto che non devo avere paura di tutti questi tutte queste persone che non ci faranno niente questo fuggi che inizia cosa ci fa questo criminale criminale non può essere non è che cosa fa questa roba non ne frega cosa ho fatto ti sono rubato un po chi non è accusato ah ah non sei panchina c'è il gruppo in per la master borsi sì perché le mette pubblica la mostra nessuno si compra più poco per prendi solo master borsi tutti i po come ti catturi al mio tuo è un'altra roba fatto che non è possibile potrò ammettere solo se lui decideva di lasciarsi prendere poter prendere il mio tuo perché mi è pianto qua per cosa cosa vuoi far via chi fa la mostra si si ecco la cosa vuoi che faccia non sto tradendo il team rocket io non tradirò mai il team rocket ok vado a cercare gli oggetti dai virdian city scendiamo giù sono astuto per questo è venuto a virdian city si si è giusto a virdian city ma non è qua su su più su se mi viene in me me li prendi queste robe perché anche se non posso se non c'è cot prendo queste robe l'inno si l'inno forest l'ho battuto tutti i l'inno tori che non sarò fai niente la so cercare sta bacca dato che è finita la beta del gioco scusate ma la beta è finita sper che avevate ci tutto cosa mi so cosa da scocciare questa beta di vista la fine questa è la fine del serie cosa farò intanto adesso non farò niente di che faccio così c'è una tasca che posso fare qua c'è una tasca che posso fare qua c'è un po black e che ogni volta che c'è c'è sta roba adesso vado anche a sono tutti di andare fila alla casa segreta per prenderti surf ma si conosce per il suo niente nessuno farà mai la palestra la tua palestra di che è questo è il problema di cui le che vuoi che faccio qualche rubo perché vado a rubare da tutte le tm solo quanto è possibile quanti scopo lì da senso ci pensi bene non vieni qua siamo noi surf a parte me che io ci venirei lo stesso questo è successo ai suoi denti prendiamo i denti mettiamo dentro tanti soldi che dai ti vuoi sapere quanto ok tanto questo aiuta in più solo a dire che si parlo parlo che tu boss io poi si dai ti non ti dispongerà mai al sentrario a me non mi serve tutti sti giochi ciao genzi anche cattolato minuto di cattolare il tempo è limitato di possere quello che voglio mi torino belle che lo surf come hai fatto e si ok tieni non mi servono gli studenti sono identità di persone perché dovevano verli giusto tiene quanto la battaglia si dà le battaglie finale del gioco perché questa era una bezza del gioco non sapevo faccio pochissimo oh mio di zen alt bot critica il malciottato marzo c'è un momento sentivo confusione questo mozzo che vuol dire però fa schifo è almeno un match punch cinza e si è un formale 3, 2, 1, 2. non so felice che il gioco ma deluso alla fine che questa è una beta ma ok che sfiga ho fatto già vedere l'inizio del gioco di ecco se io non riescirei fare la serie ma quella non lo faccio la cosa mi farei a beta lingua l'ho rubato solo una ce ne andiamo posso andare da qua si per fuoco dai vedi tutti questi pokemon nugget ma andiamo da seppi e mangiato qui vedi dell'arli venga tenda l'identità se farà con me questo prendete accosti di dentro poi poter tutti e dopo averla trainer card che è il senza poco così puoi giocare così per combattere il capo palestro non lo farò io perché stasera potenti finita perché questa è una beta per contiene il gioco dei server bill di amico non mi sono dipendere delle berri e ste robe ma penso che questa serie è tutto sia una prossima serie di poco che vogliono il gioco ci sono dei belli e ciao